Buongiorno, eccoci qua con un nuovo video ragazze, allora stamattina ho deciso di pulire un po' con la cucina solo i mobili di fuori perché dentro già, diciamo, li ho fatti appena li devo rifare, lo facciamo insieme stavolta per la prima volta, userò questo il terzo celeste non so se voi lo conoscete ma sono usciti questi prodotti nuovi, verde celeste, arancione il mio preferito è quello là arancione, questo qua l'ho usato già ieri, ho lavato per tutta la casa, devo dire la verità è bello come prodotto devo essere sincera, però come profumazione non mi fa impazzire sarò l'unica perché già lo so a molte piace questa profumazione a me no, quell'arancione ragazzi devo dire la verità lo stra adoro ma questo qua non lo so non mi fa impazzire, mi dà la sensazione è un po' del come si chiama? pino silvestre diciamo così però un pino silvestre è un po' brutto noemi permettendo che ci vada a fare qualcosa lo voglio fare insieme a voi quindi questa volta lo utilizzerò per la prima volta sui mobili della cucina mi piaccio vedere prima la cucina in che stato sta allora questa è la mia cucina pulisco solo i mobili bianchi ragazze solo il bianco perché in verità io già l'ho pulita l'ho pulita dappertutto ecco, devo pulire solo i mobili bianchi per vedere se funziona cioè se è buono quindi se è buono ve lo consiglio se non è buono no vi inizio a dire che già vi consiglio quello là arancione adoro bellissimo come profumazione è bellissima quando andate a prendere il prodotto quello l'arancione quando lo sentite è brutta la profumazione ma quando lo usate ragazzi vi assicuro che è bellissima ecco non pensiamo a Noemi perché Noemi ragazze Noemi vuole venire solo ed esclusivamente sembra in braccio è vero? invece appena la metto qua dentro o altre parti piange che vuole venire in braccio fa finta non piange quindi state sereni che Noemi non piange fa finta quindi iniziamo guardate faccio vedere la mia cucina com'è vedete ci sono degli aloni no aloni delle impronte con la mano e quindi faccio sapere com'è innanzitutto prendo il prodotto allora ho messo l'acqua qua dentro ragazzi l'ho messa calda che fa freddo ecco se mette a fuoco può essere che vedete qualcosa allora prendiamo un po' di prodotto da mettere dentro non troppo ma ne manca poco poco quindi faccio così vedete strizzo la pezza panno e lo passiamo su tutta la cucina che c'è che c'è a mamma che c'è tolta mamma sposta perché? perché non vedo perché mi metti davanti alla luce e mamma non vede chico togliti no è mio mi serve non devi toccare le cose da terra è la cosa della bottiglia togliti per favore spostati per favore qua ci sarò non mi pare più si devi spostare grazie tu se cadi a me non me ne frega eh? eh? io sono qua ho detto che c'è eh? se cadi dopo non venire a piangere da me eh? perché io te l'ho detto che cadi no non cado non cadi va bene io voglio stare solo seduto eh sei seduto e non ti muovere e poi c'è e poi c'è scendi volevo chiedermi di qua hai capito? no volevo volevo chiedermi di qua hai capito? ora hai capito? ho capito che mi stai disturbando ma non l'ho detto così no l'ho detto io così ah che mi fanno? e non c'ho chiedermi di qua un po' così a mamma un po' così no eh sì no te lo voglio dire te lo voglio dire io non rispondere perché sennò diventi in punizione la mamma dice una cosa a dei più po' ascoltare eh questa bocca non è il mio amore eh uno due ma sei andata a finire e ha messo i piedi qua vicino Francesco quale? hai messo i piedi qua vicino a mamma? no perché? scusa mi state facendo fare le corse? no 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 papà che c'è? si ma non riesci c'è un po' ha detto qua no stava bevendo sento e se hai ricevuto la Coca-Cola sto l'acqua e Coca-Cola sto stia no è poi rotta la Coca-Cola presenti? no no mamma solo con la Coca-Cola sto facendo un attimo sto facendo un attimo un video mentre sto parlando con voi con l'altro cellulare sto facendo un video mamma stiamo fra dieci minuti sto facendo un attimo la Coca-Cola mai to to qui sto c' ri da Hai fame, mamma? Aspetto due minuti, ho quasi finito Allora ragazze, sto facendo una cosa proprio veloce Semplicemente perché, come avete visto i bambini Devo fare le corse Però mi scoccio a stare senza fare niente E quindi qualcosa devo fare Comunque già vi dico che questo prodotto è molto bello Sono sincera, molto molto bello La profumazione non la gradisco Assolutamente no Per quanto mi riguarda non la gradisco Ma faccio un attimo il giorno Tanto l'acqua è pulitissima ragazze Veramente l'acqua è pulita perché Fortunatamente la mia cucina non è Cioè la casa a minuto è O squirt Come diciamo noi a Napoli E quindi è cedito Ma poi, che sto facendo la prima mano Chiudo quello che può finire bene Sto togliendo proprio quello là Sporco a sporco Francesco, aspettare due minuti a mamma Per favore Sì Sì E' da bello Ora mi spinta la mia carne Ecco la mia cucina Cioè questo E' quello che mi dà più problemi di tutti E anche il lavandino E infatti Chiunque Chiunque viene E mi fa la cucina No? Cioè Mamma Perché attraverso Le mie cognate Per esempio Hanno notato Che Non è facile Da pulire Questo Questo porno L'unico prodotto Che io mi trovo bene Per pulire Questi fuochi Che a malicuore Mi sta finendo E lo devo ricomprare Per la quarta volta Perché ragazzi E' troppo bello Questo qua Lo potete usare Per tante cose Ma veramente Per tante cose Ma io lo adoro Lo adoro Veramente Cioè Mostro facendo un video Veloce Veloce Che in venti minuti Una mezz'oretta Vi faccio la cucina Veloce Veloce Ci metto Una mezz'oretta Una mezz'oretta Faccio Sapore In più Poi non vi dico Quando la faccio Veramente Da per tutto In profondità Ragazzi La perdo proprio tempo La perdo proprio una mezza giornata Solo per la cucina Molto spesso Non mi nascondo Me lo sto facendo Di sera Perché veramente Con due bambini Non è cosa Con un uomo in casa Non è cosa Ma no per qualcosa Perché Io penso che Uno quando deve fare i servizi Deve stare in pace Tranquilli Solo che il mio figlio Purtroppo Esce presto da scuola Cioè Il tempo che lo accompagno Dopo un paio d'ore Lo devo andare a prendere Quindi Che esce presto Anche quest'anno L'anno prossimo Anzi Spero da gennaio Che uscirà Anche lui Alle quattro e mezza Non esce alle quattro e mezza Perché Purtroppo Un paio di volte Il mio figlio Si è affogato E le maestre Si sono un po' Spaventate E mi hanno consigliato Di farlo mangiare a casa Anche perché hanno Cioè Hanno detto che Ho avuto veramente un miracolo Con il mio figlio E sinceramente Ragazzi Me lo tengo a casa Poi dopo gennaio Vediamo Perché Francesco Sempre affogato Diciamo la verità Ma per una questione Di lui Perché non ha nulla Ovviamente Accertato E tutto Non ha nulla E una questione Che lui Perché Quando non vuole mangiare Non si applica E quindi Non lo so Ha detto il dottore Ci vuole un po' di tempo Per sbloccarsi Lui Perché Come da L'ha fatto Da uno giorno Così Quindi Ma per lui È una cosa naturale Ma invece no È come lo so A fuoco È bello e buono Ragazzi Vedete Le fasciche È veramente bene Ho fatto una cosa Veloce Veloce Giusto Per tenermi in compagnia Per fare io Qualcosina In questi giorni Questi quali devo lavare Bene bene Dico in questi giorni Perché ne approfitto Quando c'è il mio marito E quando c'è il mio marito Ragazzi Faccio un po' Qualcosa in più Ne approfitto Dei sui tipi Quindi Però Ultimamente Sta facendo Un po' di lavoro in più Vivo la verità E quindi Questa situazione Ora vi faccio vedere Poi me la pulisco Di pulire Però voglio provare Questo prodotto Sotto Fa solo Come Io spolverato Con questo Ho Trovato Super Super Bene Ed economico Il prodotto Veramente valido Economico È bello Io Quello che mi sono Ho trovato E mi trovo ancora E quello è l'arancione Un attimo Mamma Leffa Facciate Tutto Leffa Facciate Tutto Veramente Sì Andiamo a vedere Ha spento L'albero Ha spento L'albero Ha acceso Sì Ma dove ha acceso L'albero Allora Diciamo che Questo prodotto Brezza di Marina La casse Però Mi ha l'impressione Del Come si chiama Aspettate Allora Presa Anche questo Allora Stavo dicendo Questo qua Ebrezza Marina Mi dà l'impressione Del Non so Del Pino Silvestre Quindi Non mi fa impazzire A me Come Come bagno Scrimano Mi fa impazzire Il Pino Silvestre Invece Questo qua È più agrumato Ragazze Se lo comprate Sentite la profumazione Così Non vi piacerà Vite no Com'è brutto Vite no Com'è brutto Ragazze Prendete questo qua E usatelo Per tutta la casa Vi assicuro Troppo bello Vi profuma Tutta la casa Veramente E adesso Ho voluto provare Questo Ma questo Rispetto a questo Questo è cento volte Più bello Il rosa L'ho eliminato Il rosa Puzza E l'ho regalato A mia mamma È bello Sono belli Questi prodotti Da pulire Però ragazzi La roba da tutta Quasca d'orindacas Che a me Per quanto riguarda Non mi piace Quindi glielo Dato a mamma Ho detto Lava terra Fatti i mobili Fai tutto quello Che devi fare Perché a me Non piace E lei se l'è preso Era nuovo Nuovo L'avevo usato pochissimo Ma non mi piaceva Questo Lo utilizzerò sicuramente Questo qua Lo sto utilizzando Pian piano E mi piace Questo è il topo Quindi in questo video Vi ho mostrato Tre prodotti Che veramente Sono belli Mi piace Allora ragazzi Io con un solo prodotto Mi sono pulita Tutta la cucina Lato fuori Ovviamente Devo finire Di pulire E togliere Questo casino E pulire L'A Però lo faccio Da sola Ragazzi Mi ha pulito Veramente i mobili Benissimo Vedete Lucidissimi Belli Belli veramente Io tengo Una cucina lucida Molto molto Difficile da pulire Però anche Facile Cioè Un po' particolare Ci vogliono a volte Dei prodotti Stavo dicendo Dei prodotti Specifici Non mi veniva la parola Il terzo Per questa cucina Per questo tipo Di cucina È ottimo Veramente Qua dentro Sia qua Sia qua Non c'è l'ammoniaca Come ho potuto vedere La Mizzar Ottimo come prodotto Niente Noè Mizzar Si è scocciata Adesso Vado a pulire Anche qua Ragazzi Dopo Devo pulire Anche questo E niente Prodotti validi Top Economici Quindi Se vi va Usateli Perché veramente Sono belli Il mio consiglio È questo Di usare questo Poi Se volete Vi parlerò Di questo In un altro video Per ora Vi ho parlato Del terzo Che il terzo È sempre esistito Quello là L'ammoniaca Sempre usato In tutte le salse Top Queste altre profumazioni Pure sono belle Quella preferita mia È questa qua Però Sono tutti e due Ottimi Puliscono Veramente Bene Vedete Anche il top È venuto bene Non l'avevo neanche controllato Però Già si vede Che è venuto Bello pulito E poi È bello Liscissimo Ragazze Devo provarlo Sulle mattonelle Poi Casomai Lo faremo Insieme Qualche altro Giorno Va bene Vi aspetto In un altro video Ciao